Ragazzi, oggi è luglio, oggi è grossissimo, enormissimo, paurosissimo, questo qua è due metri, due metri e trenta, bellissimo, ragazzi non c'ho il guanto, non c'ho un cazzo di un povero, non sono nemmeno cazzo, questo qua è enormissimo, enormissimo, ma ho paura, enormissimo ragazzi, bellissimo, oggi ragazzi, mercoledì, primi di maggio, eh sì, di maggio in cazzo, siamo a giugno ragazzi, non mi ricordo neanche più che giorno, io ero in montagna per andare ai cavigliani, oggi mi ritrovo qui con un bastione, sì, 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 ragazzi, buono, buono.